Buonasera a tutti, siamo in una serata molto particolare perché oggi comunque sono 28 anni di una giornata assurda, pazzesca per il nostro paese, però non è semplicemente la serata di un ricordo, ma è proprio il fatto che noi siamo dentro in una situazione che secondo me è molto importante riflettere e fare memoria, questa è la cosa che dobbiamo fare, è fare memoria perché dobbiamo mandare i nostri messaggi che comunque sono messaggi di riflessione e che non bisogna dimenticare mai quello che è accaduto nel nostro paese e in questo caso appunto l'anniversario della strage di Capaci. Stasera gli ospiti che ne ho chiamato sono molto importanti e sono veramente da tanti anni insomma sul campo nella lotta contro la mafia, sono quindi, ve li presento subito, allora, presento subito David Gentili che è il presidente della commissione antimafia del Comune di Milano, ciao David, tra l'altro ho visto che da due giorni, da pochi giorni ci è stata anche una bella novità al Comune di Milano che poi magari ci racconti anche rispetto all'antimafia, al certificato di antimafia per alcune imprese, quindi è molto molto importante anche questa conquista. Infatti Valerio, Valerio Di Polito invece di Libera Monza e poi da Polistena, Polistena-Reggio Calabria abbiamo invece Don Pino De Masi. Ciao Don Pino, buona serata a te. Hai spento il microfono, lo devi accendere. Ok. Sì, buona serata a tutti. Buona sera a te. E poi abbiamo Daniele, Daniele Marconcini invece della Consulta Lombardi del Mondo che ho coinvolto in queste giornate appunto per le interviste con tanti ospiti e tanti personaggi, le personalità del nostro mondo sociale, politico e culturale e anche artistico. E questa sera però io volevo partire subito... Valerio ti sei spento eh? Quindi torno... ecco ok ci sei. Volevo subito partire da... visto che io sono a Milano comunque volevo privilegiare un po' comunque poi Davide che... al quale chiedo subito... visto che siamo in un periodo assurdo anche per quanto riguarda proprio questo benedetto, maledetto coronavirus, quello che si doveva fare oggi no? In merito proprio a una giornata come questa, alla fine poi non è stato fatto assolutamente voglio dire le... causa insomma il nostro problema che abbiamo in questo momento a livello mondiale. Che cosa sarebbe successo se non fosse... se non fossimo capitati in questa situazione di coronavirus oggi? Ma buonasera a tutti, grazie per questa opportunità per ricordare questa giornata e il significato che è stato in alcune famiglie drammaticamente colpite nel 92 dalla strage di Capaci e per ricordare questo giorno è stato così importante per la storia d'Italia. Mi fa piacere appunto dedicare questa serata, questo ricordo con voi e sollecitarci rispetto ad alcune considerazioni. La prima sicuramente è legata strettamente alla tua domanda. Oggi abbiamo fatto una sorta di celebrazione silente, c'era solo il maestro Koehler, che è diventato famoso grazie a Libera, ma soprattutto grazie ai suoi concerti tromba fatti dal balcone durante il coronavirus qua a Milano. C'era il maestro Koehler che ha fatto diversi pezzi musicali. Non ci sono stati discorsi perché era vietato, perché sarebbe diventato un assemblamento. Eravamo tanti, tutti distanziati, tutti con la nostra mascherina, ma il fatto che non ci fossero discorsi ha di fatto reso il 23 maggio del 2020 particolare. Perché i discorsi spesso magari sono un po' faticosi, perché ogni anno comunque si celebra. Magari spesso sono un po' pieni di retorica, magari... Infatti la mia prossima domanda sarebbe stata quella, proprio che si cade... Magari la memoria. Per cui il fatto che questo 23 maggio sia stato in silenzio, secondo me è stato veramente utile per tutti noi. Non ci sono state parole, c'è stato il silenzio. C'è stata la sirena dei Vigi del Fuoco che ricorda la strage di Via Palestra il 27 luglio. Ogni 27 luglio ricorda la strage di Via D'Amelio e ricorda anche il 23 maggio questa sirena dei Vigi del Fuoco. E secondo me è stato diverso e utile. E tutto sommato, sperando che il coronavirus nel 2021 non ci sia, forse sarebbe bene neanche nel 2021 far da spazio al silenzio, più che alle parole. Quindi è le riflessioni proprio. È stato così, è stato particolare, a me è piaciuto. Sì, infatti ti faccio quest'altra domanda invece che è più sul tempo, sul tempo che passa. Noi comunque siamo veramente, insomma, a quasi 30 anni da questo bruttissimo giorno. Però effettivamente Falcone rappresenta ancora un punto di forza, un punto di riferimento e di un grande comunque uomo e un giudice che poi ha lottato veramente dentro. Perché poi, insomma, noi siamo a Milano e sicuramente diciamo che è un po' diverso anche rispetto alla lotta alla mafia. Adesso magari si può anche collegare rispetto anche a quello che succede anche a Milano, rispetto alla corruzione. Insomma, effettivamente siamo una grande città che purtroppo ha questo fenomeno. Non possiamo dire di no, tu lo sai benissimo naturalmente. Però effettivamente, secondo me, chi ha lavorato negli anni in Sicilia o comunque in questi luoghi effettivamente sono molto più che eroi, no? Cosa dici? C'è una differenza tra il tempo appunto tra 1992 e quello che è successo a lui, che poi pochi mesi dopo è successo anche a Borsellino e a tutti coloro che hanno perso la vita per questo. Secondo me sì, ci sono delle differenze eccezionali. Basta pensare che Libera nel 1992 non c'era ancora e quindi diciamo che se vogliamo fare due fotografie a fiancarle del 1992 e del 2020 possiamo immaginare una cittadinanza molto più consapevole del rischio, dei problemi, dei drammi che hanno coinvolto diverse famiglie e di quanto la storia d'Italia sia stata legata alla storia della mafia e quindi una cittadinanza molto più reattiva che di fatto ha reso più titubante le mafie. Io sono convinto che il fatto che Cosa Nostra, Andrangheta, la Camorra uccidano di meno sia legato soprattutto al fatto che non è come negli anni Ottanta, che potevano uccidere chiunque e non succedeva nulla. Milano non lo sapevano nemmeno. Non è come negli anni... Gli anni Novanta sono già diversi, ma gli anni Ottanta sono terribili, clamorosi, magistrati, forze dell'ordine uccisi e non succede nulla. Ed è negli anni Novanta che c'è la grande reazione del cittadino italiano, non del cittadino di Palermo. Abbiamo loro, no? Che sono stati proprio... Per cui una grande consapevolezza. Sì, di rendere consapevole. Rispetto a quegli anni, e qui chiudo, c'è però un dato secondo me importante. Cioè noi ci ricordiamo di Sindona, ci ricordiamo di Sindona dell'omicidio Ambrosoli e Sindona era il finanziere, il finanziere osannato negli Stati Uniti d'America, che però aveva rapporti diretti con Stefano Buntato. Quindi abbiamo l'apice della finanza mondiale che negli anni Settanta, iniziali anni Ottanta, ha collegamenti diretti con Cosa Nostra. Adesso la situazione forse per Assurde è più complicata. È più complicata perché la finanza mondiale ha contatti con Cosa Nostra, sicuramente, ma forse i grandi finanzieri hanno una filiera enorme di persone che in qualche maniera si mettono a collaborare, consapevolmente o meno, si fanno domande o meno, a questo grande fenomeno del riciclaggio. Quindi diciamo che c'è una consapevolezza maggiore, ma c'è un fenomeno che comunque non è diminuito negli anni, anzi si è complessificato e si manifesta in maniera molto più complicata, difficile da indagare, da individuare rispetto al tema del riciclaggio. E infatti un'operazione che è molto importante è quella che ho accennato all'inizio, se vuoi parlarne di questo emendamento al DL Liquidità, proprio che è stato presentato due giorni fa a Milano, no? Sì, sì, un emendamento in realtà del Parlamento. Del Parlamento. La settimana scorsa abbiamo avuto questa novità importante che è questo emendamento al DL Liquidità che impone l'informativa antimafia alle aziende che operano anche nel catering, nella ristorazione, sempre per appalti pubblici e anche nel settore rifiuti, in particolare nel settore delle modifiche. Per il momento l'informativa antimafia era legata al trasporto terra, in olio a caldo, in olio a freddo, alle forniture di bitume, tutto al ciclo della terra. Adesso, con questo emendamento che ha già avuto il parere positivo della Commissione, mi sembra, non mi ricordo, la Commissione che abbia dato parere positivo, il fatto sta che dovrebbe passare anche in aula, vuol dire che le aziende che verranno scandagliate dalla Prefettura e che potranno partecipare agli appalti, saranno un numero maggiore e ci saranno delle filiere intere che verranno scandagliate con maggiore intensità e che potranno quindi essere bloccate prima ancora di entrare nel cantiere. A questa filiera dell'informativa antimafia sono legate le white list della Prefettura, cioè l'elenco di aziende sane, libere da tentativi di impiantazione mafiosa, che è una miniera ricca di aziende che potrebbero essere anche individuate nei contratti privati e che devono essere per forza scelte nei contratti pubblici, le aziende libere da tentativi di infiltrazione mafiosa. Questo emendamento amplia i settori in cui l'informativa antimafia verrà applicata in maniera sistematica. Grazie. Volevo passare quindi al sud adesso con Dompino, perché stiamo parlando appunto di Milano e invece è un grande esempio di lotta sul campo, proprio sul territorio da tantissimi anni, proprio la fa Dompino. Effettivamente, se vuoi raccontare a chi ci ascolterà, a chi ci vedrà, come è cominciata la tua battaglia contro la mafia? Sì, buonasera a tutti intanto. Ecco, io credo vorrei fare prima due precisazioni sulla giornata di oggi. La memoria, ecco che cos'è la memoria per noi. Saveria Antiochia, madre di Roberto, agente di polizia ucciso nell'85 a Palermo mentre scortava Nini Cassarà, ha detto che quando uccidono tuoi figli è come se sparassero su di te. Allora la memoria, è una memoria viva, è quella di una comunità che sente la violenza sulle vittime, sui loro familiari, come una violenza inflitta su tutto il corpo sociale. Per cui oggi non è una giornata di celebrazioni, è una giornata di riflessione, è una giornata di farsi carico, di un farsi carico di questa situazione che mi porta quindi all'impegno. Quale impegno? E' l'impegno anche qui. Io credo che è giunto il momento di fare anche una narrazione diversa sia delle mafie e sia dell'antimafia. Cioè non è più sufficiente né accettabile parlare delle mafie come di un fenomeno esclusivamente criminale, senza mettere in luce in realtà le radici sociali, le radici economiche e le radici politiche. Oggi il problema veramente grave nel nostro Paese è questa commistione che c'è tra mafia e corruzione. E' una commistione che si manifesta come un intreccio di criminalità organizzata, di criminalità politica, di criminalità economica. Allora se partiamo da qui comprendiamo anche che tipo di impegno dobbiamo metterci oggi. Ed è un po' il discorso che io personalmente, ma più che aiutato da Libera, sono stato un po' uno tra i primi che ha aderito a Libera. e ho fondato anche qui in questo territorio la seconda cooperativa in Italia che è andata a lavorare su terriere confiscati, la prima in Calabria, la Valle del Marro. Ecco, se il problema non è più quello antico, se la mafia non si presenta più come la mafia delle stragi, la mafia che uccide le persone, quindi la mafia criminale, ma si presenta invece in un modo totalmente diverso, allora è chiaro che noi dobbiamo lavorare in modo diverso. Allora l'azione, la mia esperienza qual è stata? Un'esperienza che è iniziata appunto insieme a Libera all'indomani delle grandi stragi, perché Libera è nata all'indomani delle grandi stragi. Ed è un impegno che è nato sul territorio. Un territorio, quello della Calabria, dove le mafie Landrangheta hanno lasciato il segno dove, proprio schiacciando la dignità delle persone e quindi dinnanzi ad uno Stato assente che non ha tutelato i diritti del cittadino, Landrangheta si è presentata invece come colei che era in grado di tutelare i diritti del cittadino. Cosa non vera, perché noi sappiamo che non è così. La mafia non dà lavoro, la mafia non dà diritti, fa finta di darlo, ma poi si riprende il tutto perché ti riprende la vita. Allora il lavoro che noi abbiamo fatto è stato su due piani. Un lavoro innanzitutto di coscientizzazione delle persone, perché la mafia cerca denaro e potere, utilizza la violenza, ma utilizza soprattutto il consenso dei cittadini. Allora si tratta di lavorare proprio su questo, togliere il consenso. E allora aiutare il cittadino a voltare pagina soprattutto nel cervello, cioè lasciandosi alle spalle la mafiosità dei comportamenti, che è quella che di fatto diventa il terreno fertile per la mafia criminale. E abbiamo lavorato su questo spunto soprattutto. Abbiamo iniziato con i ragazzi, con i ragazzi in una situazione anche di povertà educativa, che oggi era uno dei punti purtroppo più forti in senso negativo, cioè questa mancanza di cultura e di educazione reale, proprio di povertà educativa. E c'è una povertà educativa che faceva spavento e continua a fare spavento. E lo abbiamo sperimentato anche in questo periodo di coronavirus, quando tanti ragazzi sono rimasti fuori dai circuiti della scuola a distanza, proprio perché non avevano gli strumenti in mano. E allora abbiamo iniziato su questo lavoro. Abbiamo liberato un lavoro di coscientizzazione. Abbiamo poi, ecco, siamo passati al secondo aspetto. La coscientizzazione è la memoria che deve portare all'impegno. L'impegno quindi deve lasciare il segno. E allora abbiamo iniziato con i segni. E i segni noi abbiamo trovato l'opportunità per realizzare i segni nell'utilizzo dei beni confiscati. La piana di Gioia Tauro, che non è la piana dei mafiosetti da strapazzo, ma è la mafia dei Piromalli, dei Molè, è la mafia degli Alvaro, dei Pesci, dei Bellocco, cioè nomi che oggi, se andiamo vedendo, ce la vede tutti al nord o all'estero, hanno in mano l'economia. non hanno in mano la rupara, hanno in mano l'economia. Allora, per cui, la confisca dei beni a queste persone è stata fondamentale, grazie anche ad un'azione repressiva molto importante. Perché noi, qui in Calabria, abbiamo avuto una presenza dello Stato solo in termini di repressione e la stiamo avendo di ottimo livello. Abbiamo i migliori magistrati, abbiamo i migliori organi di polizia e ordine pubblica e di tutto. Però, non abbiamo la tutela dei vinti. Ecco, allora, l'utilizzo dei beni confiscati ci ha permesso e continua a permetterci anche di tutelare la dignità della persona, la dignità dei giovani attraverso il lavoro. E allora, l'utilizzo dei beni confiscati che vi dicevo sono moltissimi qui nel nostro territorio, insieme alla Sicilia e alla piana di Gioia Tauro e il territorio che hanno maggior beni confiscati, dobbiamo iniziare ad utilizzarlo. Allora, utilizzare i beni confiscati cosa ha significato? Ha significato tutelare la dignità di alcune persone attraverso il lavoro. Lavoro non solo nei campi, quindi non solo cooperativa agricola, ma anche l'utilizzo dei palazzi. Qui a Polistano, oltre che ad essere nata la prima cooperativa, ti dicevo, la prima cooperativa in Calabria che è andata a lavorare sui beni confiscati, la Valle del Mare di Beraterra, noi abbiamo un centro polifunzionale, cioè il Palazzo del Bosso è diventato il Palazzo dei Diritti e delle Opportunità e il centro polifunzionale Padre Pino Puglisi, dove grazie alla Fondazione con il Sud, perché l'abbiamo riconvertito senza un pizzico di denaro pubblico, ma tutto attraverso Fondazione, la Fondazione con il Sud, la Fondazione in cui si scioglie l'Unicopi Firenze, un palazzo di cinque piani, 3.500 metri quadrati, oggi è la Casa dei Diritti, con un centro di aggregazione per minori arrischi, con l'ambulatorio di emergency, l'ambulatorio per tutti, il primo ambulatorio nel Sud Italia, perché io ho incrociato dopo la rivolta di Rosarno dei migranti Gino Strada e quindi ho fatto questa proposta ed è nato dopo il primo ambulatorio che è nato a Porto Marghera e è nato qui a Polistena per la salute dei migranti ma anche dei cittadini che non sono in condizione perché qui la salute è una chimera. Abbiamo addirittura nella piani di Gioia Tauro costruito la prima chiesa al mondo sul terreno confiscato. Tanti palazzi nella statale 111 che era la statale a Gioia Tauro dove la mafia dei sequestri aveva investito in cemento armato oggi quei palazzi sono abitati da ragazzi, sono abitati dalle forze di polizia e allora tutto questo ecco ha significato una rivoluzione, ha significato una nuova narrazione dell'antimafia quindi non un'antimafia parolaia ma l'antimafia sociale l'antimafia che tutela i diritti proprio dove lì la mafia li ha calpestato grazie all'assenza dello stato sociale e quindi il nostro lavoro va in questo senso ecco perché ti dicevo la memoria per noi è una cosa importante non si tratta di celebrare per il resto la prima scommessa che ha fatto Libera insieme a quella sui beni confiscati è stata proprio la memoria il grande progetto di Libera è stato qui proprio sulla memoria e sui beni confiscati il riunire quelle persone i familiari delle vittime andare a scovare le vittime i nomi delle vittime le loro storie farli emergere mettere insieme i familiari delle vittime qui al sud i familiari delle vittime si vergognavano dei loro morti e poi e piangevano dentro se stessi dentro chiusi a casa con un vestito nero e con un fazzoletto nero che copriva tutto il volto il togliere quel fazzoletto nero dal volto di quelle persone dei familiari metterli insieme e far sì che il ricordo la memoria dei loro cari diventasse impegno oggi i familiari delle vittime sono un motore importante vanno nelle scuole vanno nelle carceri fanno la loro testimonianza nei campi di estate liberi perché lo facciamo anche i campi nei palazzi confiscati e nei terreni confiscati sono diventate quindi motore di cambiamento ecco perché parlavo di una nuova narrazione sia di mafie e sia di antimafie in questo momento in questo periodo del coronavirus nel periodo di quarantena i nostri ragazzi sono stati i primi a non chiudersi in casa ma andare in giro a portare sollievo e aiuto a chi aveva bisogno perché in un periodo come questo chiaramente la forbice si è allargata chi era povero e povero non solo economicamente ma anche in senso più lato è diventato sempre più povero ma i nostri ragazzi hanno fatto a gara ad andare in giro noi abbiamo un un dovlo che che utilizziamo con un progetto di social taxi ma in questa cittadina a girare in quei giorni insieme ai mezzi della polizia era solo il nostro social taxi con i ragazzi con i ragazzi di Libera che andavano a portare aiuto e sollievo a tutelare i diritti dei cittadini ci siamo allora stavamo dicendo Davide adesso per quanto ti riguarda insomma Milano tu ci hai raccontato che cosa è successo oggi e che cosa comunque si potrà fare in futuro quello che volevo chiederti è l'impegno di un'amministrazione come quella del comune di Milano come che cosa che cosa succede qual è l'impegno ma sì oggi proprio ci avevo pensato Don Pino l'ha richiamato il 21 marzo è dedicato al ricordo delle vittime innocenti di mafia alla memoria ma soprattutto all'impegno Libera ci dice che non basta ricordare riportare la memoria emozionarsi ma bisogna assolutamente impegnarsi e ci sono tante cose ancora da fare a livello nazionale a livello milanese stavo pensando proprio oggi un impegno che mi potevo prendere ed è sicuramente quello di far ripartire questo lo sportello di ascolto delle vittime di usure e distorsione che abbiamo avuto aperto fino a dicembre del 2019 uno sportello che abbiamo aperto in collaborazione con Libera adesso Libera ha rilanciato il numero verde che accoglie le denunce dei cittadini che sono vittime di reati anche mafiosi oppure sono testimoni di reati purtroppo da dicembre 2019 sono mancati i fondi regionali e secondo me sbagliando la nostra amministrazione comunale di cui io mi assumo anche in parte la responsabilità non è riuscita a ripartire e a rilanciare lo sportello adesso c'è assolutamente bisogno adesso perché il fenomeno dell'usura a Milano già presente si diffonderà è difficilissimo intercettare le persone che denunciano abbiamo due fondazioni importanti la fondazione San Bernardino la fondazione Lombarda di Antiusura oltre che Libera che cercano di prevenire il sovraindebitamento cercano di raccogliere le denunce e portare le persone ad utilizzare i fondi che la legge mette a disposizione però bisogna veramente avvicinarsi tantissimo alle persone e offrire la possibilità noi abbiamo questo protocollo in essere con l'ordine degli avvocati io penso che sia una strategia utile quella di mettere degli avvocati a disposizione dei cittadini perché i cittadini hanno bisogno di sentirsi immediatamente protetti e l'avvocato secondo me dà questa idea e il cittadino che fa fatica magari andare alla stazione dei carabinieri o dalla polizia magari nello sportello del comune di Milano con l'avvocato messo lì dall'ordine degli avvocati diventa secondo me più facile ecco bisogna rilanciare in questo momento quindi l'impegno che mi sono preso tra meme e approfitto della domanda fatta da Ketty per rilanciarlo anche davanti a voi e quello nel giro della fine di questo mandato ma sicuramente nelle prossime settimane e mesi perché c'è urgenza rilanciare lo sportello ripubblicizzarlo e facilitare l'accesso delle persone grazie grazie veramente Davide buon lavoro insomma grazie per tutto quello che fate con la commissione di Miascia a Milano come di Milano grazie buona serata grazie grazie a voi buona serata ciao Davide ciao 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 Valeria quindi noi proseguiamo siamo stati interrotti prima stavamo parlando con Dompino e adesso volevo appunto fargli finire quello che stava dicendo appunto dell'impegno che invece a lui insomma da tantissimi anni per poi passare a Valerio e poi insomma abbiamo un procuratore emetto della Repubblica quindi più che insomma che chiedere a lui quello che è l'impegno insomma di persone di uomini come voi uomini e donne come voi che sono da tanti anni in lotta con la mafia intanto volevo appunto prima far chiudere il discorso a Dompino perché l'abbiamo interrotto si è interrotto con la connessione sì ecco stavo dicendo quindi la necessità di un impegno concreto quindi dei segni che noi siamo riusciti a realizzare attraverso i beni confiscati è chiaro che per noi c'è già una prima scommessa che è anche quella per i nostri ragazzi la scommessa di un restare al sud ecco noi abbiamo parlato nel corso di quest'anno di resistenza oggi parliamo di resilienza perché convivere con una situazione tale ecco è necessario una una resilienza che è qualcosa di più della resistenza perché significa attrezzarsi per poter reagire quindi essere abbastanza solidi per reagire e quindi stiamo educando i nostri ragazzi anche a saper restare al sud e a trovare queste opportunità di segni attraverso i beni confiscati e altre altre situazioni noi siamo partiti da uno slogan che era molto significativo che è diventato un progetto di vita per molti ragazzi cambiare per restare restare per cambiare cioè cambiamo noi ci lasciamo alle spalle quella mentalità mafiosa di cui parlavo prima e che diventa l'uso fertile per le mafie criminali e restiamo in Calabria ma restiamo in Calabria come segno e strumento di cambiamento per gli altri quindi con una testimonianza forte ecco perché legavo la memoria all'impegno cioè morti ammazzati e tutto quello che è successo nei nostri ambienti deve portarci a una reazione tale che è una nuova resilienza e quindi raccogliere le migliori forze però partendo proprio da questa prima scommessa che è quella di restare in Calabria cioè la prima resilienza è quella di restare qui per costruire situazioni diverse ecco un po' è questo e allora in questo senso abbiamo insistito in questi anni su alcune parole valori importanti il noi il bene comune l'interesse l'abbiamo trasformato in interessere quindi nello stare dentro e nello stare insieme diventano tutti motori ecco per cui dicevo anche in questo tempo di coronavirus i nostri ragazzi hanno lavorato in questa logica nella tutela dei diritti degli altri è chiaro che adesso se noi lavoriamo in questo senso soprattutto dopo questo periodo di quarantena potremmo essere anche abbattaggiati nei confronti delle mafie perché oggi in questa situazione di fragilità di povertà assoluta che è venuta fuori da questo periodo è chiaro che l'andrangheta nuovamente si presenta come colei che può aiutare la gente però se noi riusciamo invece a prevenire e aiutare la gente a camminare con le proprie gambe da protagonista probabilmente questa volta saremo in vantaggio noi e quindi non continueremo in quella narrazione che ci vede alla rincorsa delle mafie ma saremmo noi in anticipo quindi con quelle che io chiamo l'antimafia del giorno prima quindi cerco di evitare alcune situazioni per non dare la possibilità alla mafia di agire e poi io di essere costretto a rincorrerla grazie infatti adesso volevo chiedere invece a Valerio che sei di Libera però sei in un'altra situazione perché insomma sei qui vicino a me quindi sei a Monza il vostro impegno ha delle differenze rispetto appunto a quello che diceva Don Pino dunque intanto mi lasci dire che sentire Don Pino e descrivere la sua realtà che io ho conosciuto è musica per le orecchie perché è una realtà molto molto bella e interessante e che siccome stiamo dicendo che le vacanze bisogna fare in Italia coloro i quali dovessero andare in Calabria consiglio di andarla visitare e conoscere perché è interessante conoscere anche queste realtà qui se si vuole conoscere la Calabria però io che opero a Monza anche se provengo dalla stessa terra di Don Pino ci stiamo muovendo nel solco di Libera che come richiamava giustamente Don Pino la giornata della memoria del 21 marzo il titolo lungo è giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti di Mabria e cerchiamo di sostanziare questo impegno sulle tematiche che Don Pino richiamava i confiscati la memoria eccetera eccetera che cosa stiamo facendo noi in questo periodo proprio intanto proprio perché temiamo molto che questa pandemia possa essere un'occasione per le mafie sotto diversi punti di vista non solo sotto l'aspetto della povertà dell'intervento diciamo così di sostegno strumentale ai poveri e quindi come dire l'inganno si ripete verso le persone più emarginate attraverso l'elargizione di favori di vario tipo ed è un inganno che i stessi poveri poi come ha dimostrato un po' la storia come raccontava anche Don Pino prima la pagano questo tipo di elemosina ma soprattutto qui dove ci sono realtà che sono andate in crisi dappertutto ma soprattutto qui investono il loro danaro per sostenere imprese che vanno in crisi finanziaria e quindi giocare un ruolo ancora più preoccupante nell'economia legale da parte della criminalità organizzata allora noi abbiamo in qualche modo considerato benvenuta la considerato benvenuta la circolare per esempio del ministero degli interi che chiede alle prefetture di sorvegliare e qui io ne approfitto anche perché c'è la presenza del magistrato e noi stiamo convinti di questo e stiamo lavorando su questo se non possono essere a questo punto le prefetture dei luoghi di coordinamento di monitoraggio di condivisione delle diverse branche della pubblica amministrazione affinché si osservi meglio della mafia cosa accade nel territorio rispetto a quei fenomeni di cui accennavo prima noi ci siamo mossi come libera insieme alle nostre organizzazioni chiedendo al prefetto di Monza che cominciassi a sostanziare queste indicazioni che provengono dal ministero degli interni costruendo dei tavoli dove è possibile osservare cosa accade nella compraventità delle imprese nelle attività sulle quali tradizionalmente le mafie sono presenti come l'usura ecco su queste cose qui noi ci stiamo muovendo fortemente su questo è stato solo un caso ma noi il giorno prima che scoppiasse la vicenda di Lodi avevamo incontrato come libera il prefetto di Monza proprio sui beni confiscati e passo a un altro argomento che molto efficacemente Don Pino toccava prima che sono uno strumento formidabile per contrastare la povertà i problemi legati alla mancanza di lavoro alla mancanza di servizi eccetera eccetera abbiamo incontrato il prefetto e gli abbiamo proposto di costruire insieme all'agenzia e insieme alla rete dei sindaci un momento di incontro periodico nel quale noi costruiamo insieme un percorso per utilizzare già i beni che sono disponibili perché ciò che accade su questo tema di beni confiscati è che molto spesso l'agenzia assegna al comune chiede al comune una disponibilità eventualmente di manifestare un interesse sull'utilizzo del bene ma i comuni o non rispondono o non sono in grado di sapere che cosa fare allora noi stiamo cercando anche con la prefettura di costruire un cammino comune perché possiamo aiutare anche le stesse realtà comunali che possono che sono destinatarie dell'utilizzo dell'utilizzo di questi di questi beni ecco noi ci stiamo muovendo in questa fase con questo tipo di preoccupazione è un'occasione per le mafie ma può diventare un'occasione anche per rafforzare l'azione a prevenzione come dice come diceva giustamente Don Pino prima cioè l'antimafia del giorno prima a prevenire ciò che può succedere nei prossimi mesi anche nel nostro territorio guardate bene che quando parliamo della Brianzo della Lombardia parliamo della terza regione in Italia quanto ad aziende confiscate la terza e la quarta regione in Italia come beni globali confiscati nel nostro paese e quando parliamo della provincia di Monza gli studi che fanno gli studiosi ci spiegano che in tutto il centro nord Italia la provincia di Monza insieme ad Imperia Milano e Torino e nella testa tra le prime quattro province ad alto insediamento mafioso allora se i problemi che avremo nelle prossime settimane saranno questi chiedo al magistrato possono essere le prefetture dei luoghi di incontro significativi per realizzare momenti di monitoraggio e di osservazione del fenomeno lo dico in maniera forse un po' non lo so provocatoria ma le mafie che tendono proprio perché per il loro carattere a occupare a dominare il territorio di dove si insediano vuol dire che per dominarlo devono conoscerlo ecco noi dobbiamo costruire dei luoghi dove le istituzioni tutte penso anche alla magistratura stessa tutte devono essere in grado di leggere e di conoscere ancora meglio e prima cosa sta succedendo nel territorio e questa è la scommessa vera che ci giocheremo nei prossimi mesi per questo giornate come queste di celebrazione e di impegno devono costituire dei momenti di riflessione di ricerca di strumenti e azioni che siano efficaci per contrastare le mafie anche in un territorio dell'abrianza in un territorio cioè dove io purtroppo lo incontro spesso l'opinione molto diffusa è che in fondo da noi questo fenomeno non c'è o se c'è c'è poco perché c'è qualche amministratore che si corrompe non è vero non è vero sono state accolte le mafie le mafie fanno affari anche in questo territorio quando quando c'è una grande inchiesta come il crimine infinito di qualche anno fa si scopre che dei 360 arresti la metà erano in Lombardia e di quelli della Lombardia un terzo erano in Brianza ecco non scopriamolo dopo che la magistratura è intervenuta cerchiamo di evitare questo rischio questo è quello che grazie è un bellissimo pello facciamo rispondere subito il magistrato visto che ce l'abbiamo qui Benito Melchione che è stato invitato da Daniele Marconci procuratore emerito grande educatore di giovani prego Benito devo dire che è tutto interessante soprattutto perché io sono testimone ahimè data la mia età di tutte queste vicende perché Giovanni Falcone era del mio concorso in magistratura quindi ci sentiamo abbiamo visto tante cose insieme eccetera però devo dire che tutte queste forme celebrative non hanno spostato in tutti questi anni non hanno spostato di una riga la efficienza della malavita e questo è veramente triste constatarlo perché in realtà è un fatto culturale il nostro paese è ancora provincia è ancora soggetta alla povertà educativa di cui parlava Don Pino io ho scritto un ultimo volume proprio che è uscito ieri sulla povertà educativa nelle scuole perché penso che le nuove generazioni siano soprattutto sprovvedute rispetto a una formazione idonea a diventare cittadini anziché sudditi c'è una forma ipocrita che governa un po' il nostro mondo cioè predichiamo tutti i beni e poi razzoliamo più o meno male cioè in altre parole perché mai dopo tanti anni la situazione si incancremisce vuol dire che la cura che noi cerchiamo di vendere tutti quanti un po' tutti agli altri è una cura per così dire solo un po' palliativa c'è il pallium che copre per così dire il male ma soltanto per sottrarlo ai nostri occhi però non cura e allora qual è il tema il tema di fondo è che già le prefetture lavorano le prefetture io ricordo quando ero il servizio avevamo sempre il comitato provinciale per la sicurezza pubblica che era coordinato dal prefetto e noi con le forze dell'ordine avevamo sempre sotto controllo nei limiti del possibile gli strumenti preventivi per evitare la diffusione della criminalità anche quello organizzato io stesso come giudice istruttore negli anni 70 mi occupai di inchieste anche di sequesti di persone di terrorismo allora la mafia non è che muovesse i primi passi perché la mafia era radicata nel nostro costume da secoli però era già un mondo diverso dove cioè c'erano alcuni ideali che ci sorreggevano oggi nella cultura nel mondo dell'apparire che ha superato sia quello dell'essere che anche quello dell'avere evidentemente tutto ciò che appare sembra credibile poi invece si fa ben poco nella realtà e già devo dire che le prefetture sono un buon centro di smistamento di coagulo intorno a un insieme di figure istituzionali rappresentative anche del mondo locale anche del territorio devo dire però che gli enti locali sono un po' come dire poco attrezzati dal punto di vista della antimafia diciamo della prevenzione la magistratura interviene dopo quando il male è già fatto e il processo è un male che si aggiunge ad un altro male io sono molto critico nei confronti di certi atteggiamenti per così dire solo così enfatici retorici di una giustizia che però è solo amministrazione di un diritto più o meno interpretato bene o male a seconda dei casi perché il mio pallino è quello di distinguere appunto il diritto cioè l'insieme delle regole dalla giustizia la giustizia è un'altra cosa il sistema è uno questo cardinale la giustizia è un riferimento Valerio sono tutti i rumori che non si sentiamo non si sente? no perché c'è Valerio che ecco grazie ha spento il microfono se no stavo solo per finire dicendo no no prego 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 infatti nelle mie ricerche da anni anche nei miei testi nei miei messaggi metto per prima cosa in evidenza distingo il diritto dalla giustizia il diritto dovrebbe come diceva calamandrei essere servente essere ancella della giustizia purtroppo non lo è si amministra invece un tipo di diritto che viene come dire intrecciato intorno a regole che sono di maggioranza effimere e cioè dove ci si mette tutto il contrario di tutto guardate le 270 ordinanze decretinegge quant'altro linee guide protocolle di questi due mesi il che crea una cortina fumogena intorno al concetto di giustizia diventa sempre più lontana quindi l'interprete poi ha molta discrezionalità e la confusione è tale per cui le differenze e le disomogeneità territoriali sono vistosissime anche dal punto di vista dell'interpretazione delle norme il risultato che le mafie sguazzano perché la mafia è un concetto di mentalità che è diffusa un po' del piccolo cabotaggio del nostro sistema dove un cittadino italiano tra guelfi e chibellini è abituato da secoli a che cosa ad arrangiarsi a trovare sempre le scamotage attraverso la segnalazione raccomandazione eccetera chi più ne ha più ne metta perché ad esempio voglio aprire una parentesi io ho scritto un testo l'amico Daniele lo conosce Sanità malata cinque anni fa dove anticipavo questo tema fortissimo della come dire deprivazione del servizio sanitario nazionale rispetto a favore delle cliniche private che si sono arricchite e così vediamo cosa succede e cosa è successo e quindi queste cose erano prevedibili e sono prevedibili allora perché non riusciamo noi a trasformare il nostro genio italico che è tale però da fare squadra mentre siamo tanti individui scoordinati tra di noi il risultato è che ci sono lotte anche interne alla magistratura in questi giorni è venuto di voda anche come dire qualche cosa che si è verificata a livello di CSM e quant'altro per nomine non proprie tra cui quello del DAP per dire nel dipartimento delle carceri c'è stato un po' di problematiche che noi abbiamo seguito con interesse poi però la politica fa le solute farse si dice mozione di sfiducia poi la mozione di sfiducia è ritirata perché magari c'è sotto banco qualche no dovuto di essere insomma a certo punto io ho parlato con ho avuto l'onore il piacere di parlare con Falcone era del mio concorso quindi abbiamo fatto io poi mi curavo qui a Bergamo come giudistruttore negli anni 70 nei primi anni 80 dei problemi di sequestro in persona a scopo di assorzione e anche di terrorismo perché a Bergamo come qualcuno ricorderà era una sede strategica di prima linea che ne ha fatte di ogni tra cui anche l'omicidio del mio amico Alessandrini del mio caro Alessandrini dell'80 e quindi per dire avendo vissuto questi lunghi decenni di travaglio della nostra come dire società che non trova una sua omogeneità anzi si sta scordinando ancora di più perché prevale l'individualismo lo ripeto sempre quindi il diritto è l'insieme di come dire di regole di discipline che con maggioranza fittizia vengono imposte al suddito cioè agli italiani che sono sudditi come queste forme anche di questi giorni che hanno violato in parte moltissime norme della Costituzione quanto a limitazione della libertà giustificate in qualche modo se volete con dell'emergenza coronavirus però tutto sommato alcune lesioni ci sono verificate poi il conflitto anche lì tra le istituzioni le regioni che vanno per conto loro i comuni che vanno per conto loro il governo che recita un ruolo di come dire paladino della salute pubblica eccetera ma poi la leale cooperazione che è la base fondante del nostro assetto costituzionale articolo 117 articolo 5 una indivisibile che però deve essere organizzata in termini di leale collaborazione cioè di aggregazione di istituzioni che vanno nella stessa direzione invece si assiste a direzioni differenziate con il risultato che il cittadino è un po' disorientato già il cittadino per conto suo fa quello che vuole perché insomma questa volta forse siamo comportati meglio del solito devo dire devo dire però meno male in realtà però il cittadino è rotta libera poi si trova insomma un tessuto normativo e regolamentare che è così variegato così contraddittorio e le cui interpretazioni sono ancora più contraddittorie sul piano pratico per cui se tu sei fermato da un vigile ti dice 400 euro sei fermato da un altro poliziotto o da un altro vigile e dice vai vai stai tranquillo stai attento insomma ci sono quelle forme così diversificate per cui la certezza del diritto va a pallino di conseguenza noi amministriamo il diritto ma non amministriamo la giustizia io mi invoco sempre Calamanderie che diceva questo concetto è troppo forte perché la giurisprudenza deve essere deve essere organizzata intorno a due delle quattro virtù cardinali la giustizia la prudenza la prudenza soprattutto ma il nostro paese è ostaggio invece di questa forma quasi aggressiva anche dei mass media non me ne volere tu che sei rappresentato dei mass media però in realtà è così è sempre più aggressiva infatti ha successo ha successo chi riesce a strillare di più chi riesce a urlare più forte non ci porta da nessuna parte quindi ecco perché dico che non c'è da disperare per carità perché la storia poi gira sempre come dire in un giro di Boa di Ere però io come sa Daniele io vado nelle scuole a fare volontariato scrivo un po' di riflessioni dopo tanti anni essendo ormai vecchio di esperienza è carico di anche di afflati se volete filosofici perché sono magistrato filosofo più che altro poeta perché saggio no niente sono soltanto vorrebbe dare ai giovani qualche traccia come un vecchio maestro che dice ragazzi ragazzi non vi avventurate su questa strada che non porta da nessuna parte cercate di essere attenti a riflettere ad essere come dire a curare a curare la voglia di imparare la voglia di soffermarsi sul cuore nel cuore delle cose non essere superficiali perché il problema nostro è questo parliamo tutti di mafia ma se vai a chiedere a un ragazzo cos'è la mafia non lo sa cos'è la legalità cos'è la giustizia non fa distinzione di queste cose i ragazzi giovani vivono sull'esempio degli adulti non è colpa loro ma è un problema educativo ultimamente giudice dopo una ricerca così che hanno fatto a Milano in università i ragazzi hanno risposto in pratica chi erano le BR o comunque non sperano assolutamente chi fossero e chi ha messo la bomba in piazza Fontana uno ha detto il PD penso un po' siamo proprio nei livelli quando dei deputati interrogati per la strada dicono che cos'è il Daffur è qualcosa che va di veloce insomma cose di questo genere quando sarà scoperto l'America è un cioccolatino un cioccolatino oppure l'ha scoperto l'America nel 1840 insomma siamo è vero ma comunque grazie veramente per questa testimonianza perché ha fatto veramente molto interessante molto interessante molto molto se posso portare anche il mio contributo certo allora io volevo portare il contributo partendo da da un colloquio che ebbe per caso a Via d'Anano con Nando dalla Chiesa lui presentò il manifesto antimafia e il presupposto del suo ragionamento era la mafia non manda i figli ad Oxford la mafia semplicemente occupa il territorio e lo occupa specialmente in luoghi dove negheranno fino diciamo allo spostamento che esiste la mafia e lì spiego la teoria del cretino che è la teoria dove che si adatta molto bene alle nostre zone le nostre zone che sono progressiste dove praticamente siamo tutti onesti eccetera eccetera alla fine viene fuori che si è insiedata l'andrangheta e lì partì da da questo da questo aneddoto quando un magistrato domandò a un mafioso cos'era la mafia disse guarda c'è un bellissimo posto possiamo mettere una persona nostra una persona vicina a noi un cretino noi mettiamo il cretino quindi allora questa negazione no delle nostre parti no nel nord così progressista parliamo anche dell'Emilia sapete che Brescello è stata commissariata quindi allora tu vedi la mitica Brescello la mitica Brescello allora quando si parla di una predisposizione del meridionale del calabrese del siciliano ad essere colluso poi vedi che delle persone dei bravissimi commercialisti dei personaggi al di sopra di ogni sospetto il fatto di avere di fronte delle persone che sembrano nipotenti diventano collusi e quindi noi vediamo dei bravissimi emiliani dei bellissimi nordisti che alla fine sono collusi anche in un modo come si diceva prima semplicemente accettando soldi che vengono che sono soldi sporchi poi il tema ad esempio che da noi è stato molto molto dibattuto ad esempio è stato lo smaltimento dei rifiuti si parla tanto dei rifiuti che sono finiti non in Campania non si parla dei rifiuti industriali che sono magari finiti un po' dappertutto anche qui nel nord Italia io lo rovo in un petrolchimico bonifica eccetera eccetera ma il tema che io volevo porre è il tema dei sindaci io mi sono iscritto d'avviso pubblico dopo che mi ero avvicinato a Libera perché hai detto non so chi l'ha detto i sindaci non sono attrezzati per vedere quando vi sono dell'infiltrazione non sono attrezzati vengono fatti sapete che è obbligatorio fare dei piani anticorruzione alla fine tu capisci che c'è un insediamento quando uno che si interessa di mafia di Andrangheta va a vedere nei giornali e fa la somma di tutti gli episodi malavitosi isolati che magari non vengono presi in considerazione a Manto ad esempio hanno bruciato di camio oppure è stata incendiata una macchina allora questo filo conduttore nessuno riesce mai a metterlo insieme la DIA è venuta in Lombardia era stato denunciato a Galespo a Manto abbiamo avuto sette casi in cui la DIA è intervenuta tra cui nel mio comune ecco anche qui però tu quando vai a domandare l'esito di queste indagini non si sa nulla quindi a volte sono andato anche dalla prefettura qual è l'elemento debole della prefettura l'amico parlava della prefettura quando la prefettura decide di non mettere in white list una lista magari la ditta querela alla forza economica di mettere in difficoltà la prefettura per cui noi abbiamo avuto dei casi in cui la prefettura ha avuto delle situazioni in cui determinate aziende che erano indagate erano in white list quindi non è una cosa così semplice quando fai la dichiarazione antimafia dichiari di non essere mafioso a volte mi viene da sorridere uno dichiara di non essere mafioso il tema vero è la finanza la finanza che molto spesso non viene controllata perché è in mano diciamo a determinati potentati io mi sono occupato di campagna elettorale una volta ho fatto il conto di quello che costa una campagna elettorale sembra che per diventare consigliere regionale se tu ci metti 500.000 euro tu sei eletto allora la domanda è siccome io sono della tesi che dice che non è la mafia che compra la politica ma è la politica che molto spesso utilizza la criminalità allora proviamo a immaginare quando la mafia decide di fare eleggere dei propri rappresentanti ha una potenza economica per cui magari manda anche delle persone che sono influenzabili non è detto che siano tutti i mafiosi ci sono persone che sono magari influenzabili allora il tema della burocrazia e qui entro in questo momento della crisi io sono convinto che la grande burocrazia le grandi ostacoli che noi abbiamo è perché abbiamo un paese con un alto tasso di criminalità a furia di mettere controlli su controlli siamo arrivati ad avere una burocrazia che impedisce di avere magari un'agibilità molto molto più veloce nell'intervenire dopodiché consentitemi le forze dell'ordine allora se tu non fai dei nuclei speciali io collaboro con Benito all'International Police Association l'Associazione della Polizia Internazionale e Lombardia io penso che molto spesso nonostante noi abbiamo dei presidi che sono le caserne dei carabinieri molto spesso corrono dei gruppi speciali che non sono presenti in tutto il territorio per fare determinate indagini non tutti sono specialisti di mafia legata all'ambiente di mafia finanziaria per cui il tema è che dovrebbe veramente rafforzare lo specialismo perché l'ho sentito un magistrato non so se è stato Gratteri diceva che adesso abbiamo dei mezzi molto più potenti che negli anni 90 ci sono le intersettazioni però sul territorio se noi non specializziamo le forze dell'ordine non riusciamo a fare un contrasto quindi da un lato dobbiamo educare gli amministratori e dopo fornire sul territorio degli strumenti più Benito che hai fatto il magistrato sai benissimo che le indagini sono molto 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 complicate specialmente nei luoghi dove la mafia come ho detto vi sono i cretini comunque quelle persone che negano la presenza della malavita io volevo far dire l'ultima cosa a Don Pino perché vedo che è stanco quindi magari ci e quindi volevo appunto chiedere a lui insomma noi del nord sicuramente possiamo veramente imparare tanto dal sud da questo punto di vista perché voi siete effettivamente coloro che poi ci hanno insegnato di più ma in questo momento storico secondo te qual è la cosa più importante che devono fare i giovani per avvicinarsi effettivamente a vivere in una democrazia in un luogo vero senza paure cosa devono fare i giovani è il microfono spento Don Pino ok ma io sono uno tra coloro che dico che i giovani sono il presente e non il futuro e credo che proprio in questo momento i giovani sono il presente perché ecco se noi li abbiamo aiutati in questo periodo a intercettare i segni dei tempi a intercettare le situazioni loro possono e debbano essere i costruttori della società del dopo coronavirus della ricostruzione e quando noi ecco parliamo di resistenza e di resilienza ecco non a caso riportiamo il tutto alla resistenza di 75 75 anni fa perché come allora le forze sane del paese giovani meno giovani oggi le forze sane del paese con una nuova mentalità devono essere soprattutto i giovani allora sono loro che devono mettersi insieme riscoprendo quel noi collettivo di cui parlavamo prima dare nei prossimi giorni nuovo significato al tempo e nuovo significato all'impegno cioè sono loro che devono aiutare noi adulti a far capire che non si può ricominciare da dove siamo siamo rimasti ma deve essere tutto modificato cioè non c'è più nulla che sia uguale a prima allora credo che ecco noi dobbiamo forse aiutare i giorni a prendere coscienza di questo a riappropriarsi di questo ruolo importante che sono loro il presente e che a loro è affidata la ricostruzione dopo il coronavirus la rinascita è affidata a loro e credo che se gli aiutiamo a riappropriarsi di questo loro sono in condizione di poter modificare il corso della storia in un senso positivo grazie devo dire veramente che è stata una serata bellissima molto importante interessante grazie per tutti i vostri contributi e speriamo sempre di di unirci appunto sempre di più con questi intenti grazie grazie a voi tutti buona serata buonasera grazie a tutti grazie ancora ciao Daniele ciao 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 ciao